Abitare il tempo taglia un traguardo lusinghiero e significativo, una manifestazione che ha saputo crescere e affermarsi nel mondo valorizzando le prerogative della creatività e dell'imprenditoria italiana negli ambiti dell'arredamento classico e contemporaneo, dell'alta decorazione, del design, dell'architettura, del tessile per la casa, dell'illuminazione e abitare nell'utopia. La rassegna veronese rappresenta una scommessa oltre la crisi del settore mobile arredo, crisi che ha origine dalla più grande bolla immobiliare finanziaria degli ultimi anni, colpendo pesantemente il settore del mobile nel 2008, provocando una forte caduta della produzione nell'indotto. Nel 2010 ha cominciato a dare segnali diversi e quindi vi è una ritrovata fiducia, certamente questo non cambia assolutamente le piccole e importanti tensioni, però credo che ci siano buoni motivi per guardare con un occhio diverso questa situazione. L'aria che si respira tra gli stand di Abitare il Tempo sembra essere quella che prelude al superamento della crisi. Gli indici positivi dei dati sull'esportazione nel settore mobile arredo del primo trimestre 2010 per molte province italiane sono la conferma di quanto la capacità imprenditoriale del nostro paese possa recuperare competitività ed efficienza. Il fatto che quest'anno tornino a Abitare il Tempo mercati internazionali importanti come la Russia, come l'India, come i paesi arabi, come altri mercati che stanno andando più veloci di noi è un fatto, credo, positivo anche a supporto delle aziende locali che certamente escono da una fase molto faticosa, però qualche segnale comincia a essersi, soprattutto sull'Expo, di una tendenza a riprendere. La 25esima edizione di Abitare il Tempo è stata inaugurata dal ministro Brunetta e rimarrà aperta sino a lunedì 20 settembre.